Siamo solo noi, eh, che non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo portare, eh, siamo solo noi, salona, che non vi stiamo neanche più ad ascoltare e ad aspettare, eh, voi no, siamo solo noi, eh, che non abbiamo più niente da dire, dobbiamo sempre, eh, siamo v webinar o supportare, eh, Siamo solo!